Benvenuti a questa ventiduesima edizione del Tercero Vivente Il Tercero Vivente di Acquasparta viene organizzato dalla parrocchia e dalla confraternita di San Giuseppe e viene realizzata in collaborazione con il Comune di Acquasparta e con l'ente di rinascimento d'Acquasparta che organizza la festa che porta questo nome durante il periodo estivo Siete, per chi non è di Acquasparta, ovviamente siete entrati nel Palazzo Cessi costruito nel XVI secolo da questa antica famiglia romana e il membro di maggior spicco di questa famiglia fu Federico II che fondò l'Accademia dei Vincei nel 1613 A questa accademia appartenne Galileo Galilei che abitò in questo palazzo nell'abrile del 1624 quel famoso scienziato, astronomo e fisico, padre della scienza moderna A questo periodo storico è dedicata la prima parte del Persepe Vivente Poi dopo la scena dell'Annunciazione si aprirà la porta su un altro mondo cioè su quello dell'epoca di Gesù e della sua nascita fino alla grotta della Natività Vi prego di rimanere in questa sala finché io non riaccenderò le luci e dopo la scena di Gesù e della sua nascita